Oh 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 oh, io sono un italiano e canto e datemi J-Ax e Fedez a Alla TV, sono un italiano medio nel blu dipinto di blu. Rispondo con italiano medio al dito medio di una persona media come J-Ax. Ciao Alessandro, non ti è piaciuta la citazione di Cuccini, ti ha ferito, hai risposto con un video pieno di confusione in cui ci hai voluto riconoscere e ricordare che sei un bravo ragazzo, che lo so, che ha fatto la cresima, la comunione, che si è sposato in chiesa, che ha seguito tutte le convenzioni sociali, pure se poi dopo per fare i soldi, hai recitato la parte del trasgressivo e per fare la battuta politically incorrect, come si dice in inglese, hai scelto di farla sull'obesità, che è una cosa divertente, molto originale, non me l'hanno mai detta questa cosa che sono grasso. Il tema in realtà è un altro ed è serio. Intanto vorrei parlare del cristianesimo con un tema, insomma, forse è tempo sprecato, ma l'idea che trasmetti, l'idea che il cristianesimo sia il volemosebbene, è davvero forse la spia di quello che sta sbagliando, e stiamo sbagliando noi cristiani nel comunicare quanto è bello ma esigente il cristianesimo. Non è volemosebbene, è una cosa un po' più complessa di così. Ma poi andiamo alla questione, alla questione Famiglia Arcobaleno, che ti ha fatto fare il dito medio alla trasmissione Le Iene, mentre te citavi quella patetica parte con l'assistente di studio che vi chiamava gli applausi. Il pubblico ammaestrato non vi fa paura, dice Cuccini, nella canzone che ti ho citato e che evidentemente ti ha ferito. Avete bisogno di pubblico ammaestrato, di marchette delle televisioni berlusconiane, avete bisogno della conduttrice di regime che vi scrive e vi imbecca, voi recitate la parte sul gobbo, e poi fate il dito medio a milioni di mamme e di papà che si alzano la mattina e vanno a lavorare, non fanno i cazzoni in televisione e meritano forse un po' più di rispetto. E dunque quell'atteggiamento, lo sai che è un atteggiamento sbagliato Alessandro, sai perfettamente che hai sbagliato e per questo hai ritenuto di fare un altro video sbagliando ancora, provando a giustificarti con una serie di concetti confusi. La famiglia Arcobaleno, Alessandro, è un luogo in cui, Nichi Vendola, la famiglia Arcobaleno, ti piace? Bene, un ricco, un ricco che prende centinaia di migliaia di euro, un ricco come te Alessandro, che va in un altro paese del mondo, va da una donna che è in condizione di bisogno, la mette, diciamo, in qualche modo incinta utilizzando l'ovulo di un'altra donna che viene pagata per questo e deve subire dei trattamenti mostruosi per dare quell'ovulo a Nichi Vendola di turno. Poi questa donna rimane, diciamo così, un'altra donna, non quella che ha dato l'ovulo, un'altra donna fa nove mesi di gravidanza con un bambino in grembo, un bambino come sei stato tu nel ventre di tua madre, in maniera identica, partorisce quella donna e il bambino viene preso dai ricchi che se lo sono comprato facendo leva sulla condizione di bisogno di quella donna che l'ha partorito. Bene, questo ti piace? Secondo me questo è famiglia? Questa è una oppressione violenta e criminale dei diritti di una persona debole e una violazione colossale del diritto del bambino a avere una mamma. Questo è, a te piace, a me no. Il rispetto che devi alle posizioni degli altri non è il rispetto che devi a Maria Rinolfi o certamente il rispetto che devi al Popo e al Family Day, è il rispetto che devi al diritto di quel bambino, è il rispetto che devi a te stesso per essere un filino più profondo nella tua riflessione e nella tua analisi, provando a ribaltare il punto di vista, a toglierti dal punto di vista di te ricco che vuoi comprarti qualsiasi cosa e puoi comprarti da comunista col Rolex qualsiasi cosa ed entrare invece nel punto di vista di quel bambino strappato alla donna che l'ha partorito, strappato alla madre che soffre in maniera enorme quel trauma del distacco dalla donna con cui ha vissuto nove mesi nella fase di crescita del suo essere umano e con questa violazione del suo diritto dovrà vivere l'interesistenza con quelli come te che diranno che i ricchi hanno diritto di fare qualsiasi cosa sui deboli e sui poveri. Riflettici Alessandro e non essere l'italiano medio che cantavi con orrore qualche anno fa prima di diventare un conformista tra tanti. J-AX mi dedica un altro video zeppo di insulti dopo aver fatto lo stesso in diretta sulle Iene. Questa volta rispondo e lo faccio partendo proprio da una sua canzone cantandola anche cambiando un solo verso per parlare ad Alessandro a lui per come si chiama veramente per svegliarlo dal conformismo che gli fa dire solo cose confuse pensate da altri offendendo oltre me un popolo intero di mamma e di papà che fanno fatica per la loro famiglia il bene più grande che c'è e che non può essere confuso con la violenza dei ricchi che si comprano bambini da donne in stato di bisogno. Ricchi come Alessandro comunisti con il Rolex e il bambino da 200.000 euro quella non è famiglia Alessandro sveglia quella è violenza quella è sopruso e il GX che cantava italiano medio il dito medio l'avrebbe mostrato ai violenti non al popolo della famiglia che è il solo argine a questa barbarie ciao Alessandro rifletti bene tu hai soldi gloria tv che ti smarchettano attraverso le quali puoi insultarmi impunemente causando migliaia di messaggi di ragazzi che ti seguono che da quel giorno mi augurano la morte io ho persino il profilo bloccato Facebook e la post produzione del video infiocchettata con sottotitoli e cameraman che al montaggio ti fa gli effetti non me la posso permettere però ho qualcosa da dirti non farti fregare il conformismo è una malattia orrenda da cui non si guarisce facendo una battuta sulla mia obesità uguale a milioni che mi sono state fatte per decenni trova in questa mia risposta un'occasione per una riflessione più complessa caro Alessandro quando vuoi e trovi il coraggio incontriamoci per un confronto pubblico forza sei meglio di come vuoi apparire con il tuo cristianesimo da ben pensante lì già le convenzioni sociali comunione cresima matrimonio in chiesa ti darò una mano volentiera a scoprire il gusto di testimoniare la verità anche quando non è quella che piace alla conduttrice di regime delle tv berlusconiane che ti scrive la parte da recitare ciao Mario grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.